La Chiesa del Primo Genito Gli esseri esaltati appartengono alla Chiesa del Primo Genito Coloro che giungono all'esaltazione nel Regno Celeste sono i membri della Chiesa del Primo Genito In altre parole sono coloro che osservano tutti i comandamenti del Signore Ci sono e ci saranno molti membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni che non diventeranno mai membri della Chiesa del Primo Genito Le ordinanze più elevate del Tempio di Dio riguardano l'esaltazione nel Regno Celeste Per ricevere questa benedizione uno deve osservare tutta la legge Deve rispettare la legge dalla quale quel Regno è governato Poiché colui infatti che non è in grado di osservare la legge di un Regno Celeste non può sopportare una gloria celeste Quindi l'essere coordinato anziano o sommoserdote o apostolo o anche Presidente della Chiesa non è cosa che assicura l'esaltazione che invece si raggiunge con l'osservanza delle leggi delle ordinanze e delle alleanze da parte di coloro che desiderano divenire membri della Chiesa del Primo Genito Come queste sono amministrate nella Casa del Signore Divenire membro della Chiesa del Primo Genito così come lo capisco io significa appartenere al circolo interno Noi siamo membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni perché siamo stati battezzati e confermati molti sembrano essere soddisfatti di rimanere tali senza che importi loro di ottenere i principi e i privilegi dell'esaltazione Come abbracciare la Chiesa del Primo Genito Il Signore ci ha dato la possibilità di divenire membri della Chiesa del Primo Genito con riuscire le benedizioni della Casa del Signore e vincere tutte le cose Così noi diveniamo eredi, sacerdoti e re che hanno ricevuto della sua pienezza e della sua gloria e che dimoleranno nella presenza di Dio e del suo Cristo per tutta l'eternità con completa esaltazione Vale la pena di ricevere queste benedizioni? Ho detto che soltanto un uomo alla volta detiene sulla terra le chiavi di questo potere sul sceglamento del sacerdozio ma egli può delegare il potere ad altri i quali officiano sotto la sua direzione nei tempi del Signore Nessun uomo può officiare in questa ordinanza di suggeramento se non ha ricevuto l'autorità di farlo cioè se non è stato messo a parte da colui che detiene le chiavi malgrado ciò egli può essere investito del sacerdozio quindi tutta l'autorità esercitata nei tempi risiede in un solo uomo egli ha il potere e chiama altri perché officiano ed essi suggellano su di noi le chiavi e i poteri che attraverso le nostre obbedienze ci danno il diritto di divenire figli e figlie e membri della chiesa del primo genito e di ricevere così tutte le cose del regno tutto questo lo possiamo ottenere nel tempio e quando l'abbiamo ottenuto diveniamo membri della famiglia la via che porta all'esaltazione l'esaltazione è offerta a tutti il signore non vuole che le persone soffrono egli si addolora quando un uomo agisce male e deve essere punito e quindi non può ricevere la corona o la ricompensa che invece sono offerte a colui che sono fedeli a coloro che sono fedeli il signore vuole che tutti i uomini ricevano una corona che tutti i uomini siano esaltati che tutti i uomini divengano figli suoi e che tutte le donne divengano figlie sue ma ciò non può avvenire se non rispetto dei principi di giustizia e del loro libero arbitrio tutte le anime hanno il diritto di scegliere da sole quello che vogliono fare questo è il Vangelo di merito tutti i uomini ricevono secondo il loro diritto tutte le anime saranno benedette secondo la dirigenza volontà e integrità dimostrate al servizio del signore l'uomo che non sarà attenuto ai suoi comandamenti non sarà esaltato dal signore la donna che respinge la luce e si rifiuta di attenersi alle dottrine del nostro Redentore non sarà esaltata coloro che saranno esaltati saranno incoronati di gloria di mortalità e di vita eterna alla presenza del nostro Padre per ottenere esaltazione dobbiamo accettare il Vangelo e tutte le sue alleanze prendere su di noi i compiti assegnati dal Signore camminare nella luce e nella comprensione della verità e vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio il matrimonio celeste è indispensabile per l'esaltazione un'altra cosa che non dobbiamo dimenticare in questo grande disegno di redenzione e di esaltazione è che per ricevere la pienezza dell'esaltazione l'uomo deve avere una moglie e la donna un marito essi devono essere suggellati in un tempio per il tempio e per l'eternità solo così la loro unione durerà per sempre ed essi non potranno essere separati perché sono stati uniti da Dio e il Signore insegnò questo ai parisei se i genitori giungeranno all'esaltazione avranno sempre diritto ai loro posteri e avranno pure il dono di potersi moltiplicare eternamente questa è la suprema gloria nel regno di Dio ed essi non avranno fine quando il Signore dice che essi non avranno fine vuol dire che tutti coloro che giungono a questa gloria godranno della benedizione della continuazione dei loro posteri in eterno quelli che non ottengono questa benedizione arrivano alle morti cioè non potranno moltiplicarsi tutti coloro che ricevono l'esaltazione avranno il privilegio di completare la misura della loro esistenza e avranno dei posteri che saranno innumerevoli come le scelte stelle del cielo se volete la salvezza al massimo grado cioè l'esaltazione nel regno di Dio si da divenire sui figli e figlie dovete andare nel Tempio del Signore e ricevere le sacre ordinanze che sono proprio di quella casa e che non si possono ricevere altrove nessun uomo da solo riceverà la pienezza dell'eternità dell'esaltazione nessuna donna riceverà da sola questa benedizione ma se il marito e la moglie dopo aver ricevuto il potere di suggellamento nel Tempio del Signore osserveranno tutti i comandamenti passeranno all'esaltazione e continueranno a divenire come il Signore stesso questo è il destino dei uomini questo è quello che Dio vuole per i suoi figli soltanto gli esseri esaltati giungono ad avere la pienezza del padre nessun uomo può ottenere questa esaltazione senza ricevere le alleanze che appartengono al sacerdocio nessuna donna può ottenere questo grande onore e questa grande gloria senza ricevere le benedizioni della fede del pentimento, del battesimo, della confermazione e dell'osservanza delle alleanze promesse sia a lei che a suo marito nel Tempio del Signore l'uomo che anche se membro della Chiesa non è disposto a continuare a ricevere queste alleanze e a prendere su di sé queste benedizioni e questi poteri che il Signore gli offre tramite l'alleanza non raggiungerà mai la pienezza quest'ultima gli sarà preclusa e gli giungerà a un certo punto oltre il quale non potrà andare la pienezza della conoscenza, della comprensione, della salgezza attraverso cui gli uomini possano divenire perfetti come perfetto Dio si può ottenere soltanto con la stretta osservanza di quella legge eterna sulle quali si basa questa grande menzione per mancanza di fedeltà se ci rifiuteremo di accettare le alleanze e di prendere su di noi gli obblighi che riguardano l'esaltazione non riusciremo a raggiungere la necessaria pienezza perché troveremo la strada sbarrata le dotazioni e i suggellamenti fanno parte dell'esaltazione il battesimo è la porta che conduce al Regno Celeste tutte le ordinanze del Vangelo riguardano detto Regno e qualsiasi persona fedele all'alleanza del Battesimo avrà diritto ad entrarvi ma chi non ha ricevuto le ordinanze del Tempio non vi potrà essere esaltato le dotazioni sono necessarie per l'avanzamento nel Regno e i suggellamenti servono alla nostra perfezione a patto che osserviamo le nostre alleanze e i nostri obblighi le persone battezzate non dotate del Tempio del Signore possono ugualmente entrare nel Regno Celeste ma questo non significa che una persona battezzata riceverà l'esaltazione in quel Regno essa non avanzerà verso la pienezza solo perché è battezzata ne può raggiungerla dopo il Battesimo o dopo aver ricevuto una dotazione nel Tempio ci vuole ben altro è necessario ciò che essa riceva anche le altre ordinanze sì che tramite la sua fedeltà e obbedienza possa divenire un figlio di Dio i primi principi del Vangelo sono principi che salvano l'uomo attenendoci ad essi non entriamo nel Regno Celeste di Dio noi entriamo nel Regno Celeste di Dio poi quando saremo entrati in quel Regno se avremo ricevuto le altre alleanze e saremo stati fedeli agli altri doveri progrediremo finché non diverremo come Dio cioè Sui figli e Sui figli ricevendo la pienezza del Suo Regno questa è la promessa rendiamo sicura la nostra vocazione ed elezione coloro che procedono in giustizia vivendo secondo ogni parola della verità rivelata hanno il potere di rendere sicura la loro vocazione ed elezione essi ricevono la più sicura parola di profezia e saranno per rivelazione mediante il potere del sacerdozio di essere suggellati alla vita eterna essi sono suggellati contro ogni forma di peccato e di bestemmia ad eccezione della bestemmia contro lo Spirito Santo e lo spargimento di sangue innocente ma il semplice fatto di essere sposati per il tempo e per l'eternità nel Tempio non è sufficiente a dare loro questa garanzia le benedizioni pronunciate sulle coppie in relazione al matrimonio celeste sono condizionate alla successiva fedeltà delle parti interessate con queste parole Pietro dice come i santi possono rendere sicura la loro vocazione ed elezione grazia e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio e di Gesù nostro Signore poiché la sua potenza divina ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla vietà mediante la conoscenza di colui che ci ha chiamati mercè la propria gloria e virtù per le quali egli ci ha allargito le sue preziose e grandissime promesse onde per loro mezzo voi fosse fatti partecipi della natura divina dopo essere fuggiti dalla corruzione che è nel mondo per via della concupiscenza voi per questa ragione mettendo in ciò dal canto vostro ogni premura aggiungete alla fede vostra la virtù alla virtù la conoscenza alla conoscenza la continenza alla continenza la pazienza alla pazienza la pietà alla pietà l'amor fraterno e all'amor fraterno la carità perché se queste cose si trovano e abbondano in voi non vi renderanno né oziosi né sterili nella conoscenza del Signore nostro Gesù Cristo poiché colui nel quale queste cose non si trovano è cieco alla vista corta avendo dimenticato il purgamento dei suoi vecchi peccati perciò fratelli vi è più studiatevi di rendere sicura la vostra vocazione ed elezione perché facendo queste cose non inciamperete giammai poiché così vi sarà largamente provveduta l'entrata nel Regno Eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo abbiamo pure la parola profetica più ferma alla quale fate bene di prestare attenzione come a una lampada splendente in un luogo oscuro finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori l'esaltazione è la creazione dei mondi ora secondo insegnamenti del profeta Giosasmitte noi adoriamo il nostro padre celeste che governa il nostro universo e tutto quello che facciamo lo facciamo nel nome del figlio sappiamo che ci sono molte terre e mondi che furono creati dal figlio per il padre questo naturalmente avvenne prima della sua nascita a Bethlehem evidentemente così come egli passò attraverso un periodo di mortalità anche il padre suo vi passò proprio così come tutti noi facciamo secondo il profeta il nostro padre nei cieli aveva un padre questi lo stesso e così via in tal modo arriviamo a un punto oltre il quale non si può andare a causa della nostra limitata capacità di comprendere noi siamo figli e figli di Dio nello spirito grazie all'esplosione di Gesù Cristo noi potremo risorgere divenendo lo spirito e il corpo uniti inseparabilmente e non moriremo mai più diverremo perciò immortali e se avremo osservato i comandamenti che ci sono stati dati erediteremo la guardia celeste quando riceveremo questa grande benizione saremo figli di Dio e coeredi di Gesù Cristo il padre ci ha promesso che saremo benedetti con la pienezza del suo regno relativamente alla nostra fedeltà in altre parole potremmo avere il privilegio di divenire come lui per divenire come lui dobbiamo ricevere tutti i poteri della divinità in questo modo quando un uomo e sua moglie saranno glorificati avranno figli di spirito che alla fine andranno su una terra come quella su cui viviamo noi dove faranno lo stesso genere di esperienze saranno soggetti alle condizioni mortali e se saranno stati fedeli riceveranno anch'essi la pienezza dell'esaltazione divenendo partecipi alle stesse benedizioni questo è un progresso eterno senza fine noi viveremo dei e avremo giurisdizione sui mondi e questi mondi saranno popolati dalla nostra stessa progenie per questo godremo di un'eternità senza fine l'esaltazione esige il pentimento e l'obbedienza quello di cui abbiamo bisogno sia noi della chiesa che quelli che vivono fuori di essa è il pentimento abbiamo bisogno di maggior fede e risoluzione nel servire il Signore se i popoli del mondo camminano nel buio e nel peccato contrariamente alla volontà del Signore questo è un valido motivo per tracciare la nostra linea perché non dovremmo sostenere i dettami della nostra fede perché non dovremmo camminare in piena osservanza delle norme della chiesa anche se il mondo può pensarla in modo diverso il Signore ha rivelato la pienezza del suo Vangelo noi siamo stati informati su tutti i principi evangelici inerenti alla salvezza non vale forse la pena di conservare la nostra integrità e di assolvere fedelmente ad ogni nostro dovere la perla di gran prezzo cioè la pienezza della gloria dell'onore e della vita eterna al cospetto del padre e del figlio vale il sacrificio che può esserci richiesto di compiere siamo noi risposti come l'uomo dei tempi passati di cui parlano le scritture a vendere tutto quello che abbiamo per comprare questo campo che ci darà la gloria eterna e l'esaltazione con i figli e i figli di Dio grazie a tutti 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 grazie a tutti